Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A11, in direzione Firenze, l'area di servizio di Serravalle Sud, sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata in più punti per lavori. Sulla FIPILI, segnalato personale su strada per lavori, tra Santa Croce, sull'Arno e Montopoli-Valdarno, in direzione Mare. Sulla statale Trebis-Tiberina, fondo stradale dissestato tra Val Savignone e San Carlo. Sulla statale 62 della Cisa, senso unico alternato per lavori, tra Sarzana e l'incrocio di Caprigliola. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione tra regione toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!